La primavera è alle porte e quindi tutti noi dobbiamo iniziare a pensare quali lavori effettuare nei nostri giardini. In collegamento abbiamo il nostro Giacomo Sestini. Ciao Giacomo, quindi cosa possiamo iniziare a fare nei nostri giardini, nei nostri orti in questo momento? Ciao, buongiorno, ciao. Allora senti, ora abbiamo sicuramente la necessità di curare l'erba, di tenerla a bada, la manutenzione dei prati e dei giardini sicuramente ora decolla. Il lavoro nel prato e nel giardino noi vorremmo che diventasse una cosa piacevole, una cosa divertente e per questo ci sono degli attrezzi che funzionano a batteria, che rendono il lavoro molto facile, pratico, non faticoso. Questo è positivo Giacomo, perché prima era molto più difficile anche magari per una donna poter trattare il giardino, effettuare le potature del caso, invece così mi sembra di capire che è più facile anche per noi donne. Esatto, è molto facile, per esempio il rasa erba, anziché doversi organizzare con carburante, sistemare la messa a moto, dare dei tironi alla manuella per farlo partire, ora è facilissimo, basta pigiare un bottone, non c'è fili, non c'è carburante, non c'è serbatoio, si pigia il bottone, si pigia la leva e si parte. È fantastico, cioè di facile utilizzo, quindi questa è un'ottima idea, ecco, perché appunto rende il lavoro di giardinaggio decisamente più semplice e è anche veloce utilizzare una serba di questo genere. Veloce, veloce, è facile, non è faticoso perché è molto leggero, non ci sono gas di scarico, quindi non c'è bisogno di intossicarsi e poi la manutenzione è ridotta a niente, ci sono le batterie che si ricaricano periodicamente con estrema facilità. Come ricaricare il cellulare? Ah, però, quindi molto bello. Un altro attrezzo da affiancare alla serba è il decespugliatore che funziona con lo stesso sistema, delle batterie incastrate qua. Non so se si è perso il collegamento, non vi sento più. Eccoci, Giacomo, sì, sì, ti sentiamo e riusciamo anche a vederli. Bene, bene, questo è il decespugliatore o tagliabordi che può essere usato per piccole superfici o anche per grandi superfici. Stessa cosa, batterie, semplicemente per la messa in moto un bottone e un tasto, una levettina, si può scendere l'erba, anche roba importante, consistente. Ecco, quindi anche questo è un'ottima idea per appunto semplificare i lavori di giardinaggio. Ma quest'oggi, Giacomo, so che tu ci devi parlare anche di potature, quindi in questo periodo non c'è solo il prato, ma ci sono anche tante piante che necessitano appunto di potature specifiche. Però è difficile potare le piante, come si fa? Però è difficile potare le piante, come si fa? Allora, bisogna organizzarsi facendo una buona scelta di attrezzi comodi, funzionali, pratici e poco faticosi per non incorrere su dolori, problemi al turner papale o cose del genere. Ecco, vi faccio vedere due forbici fondamentali, molto pratiche. Uno è un modello in questo modo, è la tradizionale che si usa con le mani, semplicemente ha il fulcro a favore, in una posizione che rende il lavoro molto agile, sono chiamate metà fatica. Fare dei tagli con una forbice così è proprio molto facile, molto agile e molto piacevole lavorare con questo. Poi, quando il lavoro dovesse diventare un po' troppo impegnativo per misure dei rametti da tagliare più grossi o le quantità più importanti, abbiamo avuto l'ingresso nel mercato della forbice a batteria. Anche quella fatica ridotta con la forbice a mano, ora con le forbice a batteria è proprio diventata una cosa piacevole, divertente. Chi si trova questo attrezzo per casa non vede l'ora di usarlo. Guarda Giacomo, non sapevo nemmeno dell'esistenza di una forbice a batteria, ma è comodissima. Fino a qualche anno fa era un attrezzo molto costoso solo per il professionista. Ormai è diventato un oggetto che si trova a costi molto bassi e quindi si riesce a eliminare grande fatica, fare il lavoro velocemente con un investimento ormai ragionevole. Bene a sapersi. Ti ringrazio Giacomo per essere stato con noi e per averci parlato di questi lavori di fondamentale importanza per i nostri orti, i nostri giardini, i nostri prati. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Giacomo. Noi a questo punto ci fermiamo per qualche istante ma torniamo insieme tra pochissimo perché c'è una bellissima sorpresa.